Il Latina nel Mirino con l'obiettivo di tornare a vincere e confermare l'ottima tradizione lontano dallo stadio adriatico. Il Pescara di Marco Baroni dovrà anche dimostrare di poter continuare a essere uno dei migliori attacchi del torneo. Dopo la partenza di Pippo Maniero saranno Pettinari e Marco Sansovigni a dover aiutare Melchiorri nel fare breccia nelle difese avversarie. E proprio il sindaco, dopo lo spezzone di gara giocato sabato scorso nella sfida contro il Cittadella, sembra essere candidato ad affiancare dal primo minuto l'ex padovano nell'attacco biancazzurro. Sansovigni non si tira indietro e guarda avanti con fiducia. Tanti giocatori che l'anno scorso hanno fatto benissimo, soprattutto a Siena, e tanti ancora che erano comunque a Latina che hanno fatto i play-off. Quindi è una posizione di grafica sicuramente non ottimale per loro, però ci aspettiamo una squadra che è arrabbiata e che ci darà filo da torcere. Pescara quest'anno in trasferta ha sempre fatto risultato, quindi l'augurio dei tifosi è quello di fare bene anche in casa dei Nerazzurri. Sicuramente noi prepariamo la partita per affrontarla al meglio, per andare a fare punti, per andare a fare risultato. Speriamo che questo trend positivo continui fuori casa per poi cercare una maggiore stabilità in casa. Hai giocato uno spicchio di gara con il Cittadella, ora ti riproponi, perché no, per giocare dall'inizio a Latina? Alleno al massimo come tutti quanti, perché tutti quanti hanno voglia di giocare dall'inizio, poi sono decisioni che prende l'inizio.